con questo incontro andremo ad analizzare quelli che sono i fondamentali metodi di apprendimento della batteria vorrei fare una premessa la premessa che attualmente esistono in commercio migliaia di metodi tra quelli classici cartacei e anche video tutorial che possiamo trovare su internet e molti di voi anche se agli inizi avranno sentito parlare di questi metodi trumenti ovviamente considerati indispensabili allo studio ma un conto è mostrare ciò che è necessario fare e l'altro è quello di riuscire a trasmettere in modo chiaro le informazioni e permettere quindi a qualcun altro di assimilarle la mia conclusione è che i libri e i video non bastano e invece è necessario trovare un metodo un metodo personalizzato adatto alle proprie caratteristiche inoltre è fondamentale avere curiosità determinazione e passione questi tre elementi vi aiuteranno superare tutte le difficoltà tanti ostacoli che a volte sono solo immaginari se unirete insieme tutti questi elementi credetemi ognuno di voi riuscirà a suonare a raggiungere i propri obiettivi a migliorare in modo esponenziale se qualcuno si fosse chiesto dove è finito junior junior è sempre stato qui a lui interessano queste lezioni e spero che interessino anche a voi qui ci sono le prime bacchette tra l'altro queste sono le bacchette di un maestro ma ve ne parlerò più avanti junior non così davanti alla telecamera dai junior fai un sorriso va ciao 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 ciao